good boobies ragazzi siamo in quel di prato con il team pad bike ci stiamo dirigendo al monte giavello credo che si dica così e oggi siamo a scoprire dei trail nuovi abbiamo anche una guest star e quindi dopo ve la presento allora dopo aver fatto tutta la strada eccola la asfaltata in salita siamo arrivati allo sterrato oggi tra l'altro qui ci sono tantissimi bikers io nel mentre barrettina e si va eccoli la i nostri baldi eroi vento a parte mi sembra un ottimo panorama sembra un ottimo panorama no vi ho promesso una sorpresa che c'era una guest e adesso la presento e vi dico chi è Irene Sabelli ciao Irene come stai tutta a posto tutta a posto bellissima giornata di sole meno male finalmente e ora c'è solo da imparare ragazzi dopo magari facciamo una chiacchierata i tuoi prossimi progetti futuri e che cosa farai martedì perché è particolare la cosa che farà martedì sentiero che si chiama la lisca ooo Vigata. Ragazzi mi sto divertendo troppo per chiacchierare perché il monte Javello che mi hanno detto che si dice Javello e non Giavello è veramente spettacolare. Me lo immaginavo con un po' più di grip. Irene è fantastica. Ha un gasolino in gascardo. È un classico. Ok, quindi siamo sulla città. Lì si mangia. Lì si mangia. Ultimo pezzo. Che spettacolo. Secca, super secca proprio. Ci ho preso una secca nella doppietta. Anch'io quando è arrivato. Anch'io. Ho fatto proprio... No. La fortuna di avere Irene davanti che così poi me lo riguardo sette, otto, nove mila volte e imparo qualcosa. Ho giocato un super jolly. Infatti non so se avete notato il mio silenzio. ci è voluto un attimo per capire che ero ancora viva. Gesù è arrivato. Gesù è arrivato. La mota. Eccolo qui. E ultima parte. Non le volevi qualche frustata nelle gambe? Fa parabellini. Che figo. Finito. Torta di riso finita. Allora fine del giro. Come avete visto, visto che ce l'avevamo davanti, si guida così. Non così, così si guida. Infatti a questo proposito, prima di svelarvi cosa farà Irene martedì, voglio anche che lei vi dica un'altra cosa, alla quale io parteciperò perché ne ho bisogno e perché dove la trovi una donna che insegna? Perché è questo, sempre l'omine. Sempre l'omine. Sempre l'omine, se basta st'omine. Esatto. Allora ho un progetto, è quello di creare gruppi sempre più grandi di donne che vengono a corsi, ma non vai, perché poi fondamentalmente ci sono sempre uomini. Il progetto è organizzare dei corsi, diciamo, rivolti anche alle donne. Sai, Ir, che io ti sposo in pieno in questo, visto che ho chiamato il mio canale Boogies Bike, quindi vi lascio tutti i recapiti qui sotto di Irene, ma adesso ci devi raccontare cosa fai martedì, provo una gran fondo su strada, così, quindi ringraziamo Irene Savelli, mi raccomando seguitela, se vi è piaciuto ovviamente questo video targato Pad Bike, vi lascio anche i recapiti di Pad Bike qui sotto, good boobies ragazzi e ci si vede alla prossima, un bacio alla Fricky, mi raccomando, chi mi piace, ciao!